Gentili tutte le famiglie, gentili telespettatori, buona giornata, ho fatto un mix, tutta la famiglia di Somaoro a processo, la moglie Lilien Murecchetete, la suocera Mukamitsindo, i cognati del deputato, cioè tutti tranne il diputato con gli stivali. Il giudice delle udienze preliminari ha accolto le richieste del giudice delle indagini preliminari per il caso delle spese personali, viaggi, abiti, ristoranti, borse, di tutto di più, fatte dai parenti del deputato con i soldi dello Stato italiano, cioè con i soldi vostri delle tasse. Loro giravano, compravano, si davano alle spese più sfrenate, cioè durante la giornata da quello che si evince cercavano di spendere il più possibile. Immaginatevi voi che avete un bancomat con sopra milioni di euro che sono lì ma non sono vostri, però li volete spendere, quindi avete questo bancomat e la mattina vi alzate e dite come posso spenderli oggi? Allora vi vestite, uscite e comprate tutto quello che vedete, entrate e comprate una bistecca grossa così, poi andate nell'enoteca e prendete tutto quello che trovate, poi passate da intimissimi e svuotate il negozio, poi andate a prendervi una borsa costosissima, un trolley di Luigi Vittuone, andate a prendere gli occhiali di Guccio, tutto quello che vedete, poi il ristorante e poi la sera al ristorante e poi andate nell'albergo di lusso e poi andate alle terme, la foga di spendere il più possibile, uscire e avere un bancomat praticamente illimitato con i vostri soldi, delle vostre tasse, e beh una famiglia con una morale una cosa davvero davvero una moralità ineccepibile e così già a processo, la famiglia è già a processo per una presunta, bisogna dire sempre presunta, maxi evasione fiscale, cioè un'evasione fiscale fatta di quelle proprio gigantesche, quindi la moglie, la suocera, i cognati del deputato, ex deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che ora è finito al gruppo misto, Abu Bakr Somaoro, il deputato con gli stivali prestati, perché lui non ha mai lavorato nei campi, finiscono nuovamente a giudizio, stavolta per le spese pazze, insomma, quello che vi dicevo prima, la mattina ti svegli, non come la gazzella e il leone ti svegli e devi correre, no, qui la mattina ti svegli e dici come, cosa compro oggi, che faccio, se erano comprati anche la cucina, insomma, erano più dediti alle piccole spese, però su larga scala che le cose grosse, perché tu dici come spendo un milione, oggi mi vado a comprare una Lamborghini, una Ferrari, una Bugatti, una Bentley, no, loro erano incentrati nelle spese piccole, diciamo così, dall'albergo, la borsa, al ristorante, non sulle spese grosse, si erano lanciati per esempio sulla cucina, quindi c'erano spese piccole, chiamiamole piccole, però poi c'è l'altro filone delle spese gigantesche, che erano comprarsi il supermercato al loro paese, comprarsi il villaggio turistico, l'hotel, l'agenzia di viaggi, le case a Bruxelles, quindi c'erano due filoni che loro nella loro mente, quindi c'era il filone del banco, della carta di credito con le spese medio piccole, che secondo loro queste si camuffavano, e poi c'era il filone del riciclaggio, dove venivano spesi milioni di euro in proprietà. Il giudice udienze preliminari del Tribunale di Latina ha colto così la richiesta del PM di processare Liliane Murachetete, moglie del parlamentare, la suocera Marie-Thérèse Mukamizindo, i cognati Michelle Rucundo, Richard Mutangana e Aline Mutesei, con accuse che vanno dalla frode in pubblica fornitura alla bancarotta, autoriciclaggio, truffa, di tutto quello che vi viene in mente. La somma delle piccole spese arriva a 2 milioni, quindi quando la mattina si svegliavano e andavano a comprare da intimissimi le mutande, le calze, questa frenesia di dover spendere per il momento è di circa 2 milioni di euro, che erano soldi che dovevano servire per pasti, alloggi, accoglienza, condizioni igienico-sanitarie decenti e immigranti che sarebbero invece stati spesi in viaggi, abiti, centri di bellezza, ristoranti, arredamento di mobili privati, anche all'estero. Quindi, non so, al posto che comprare il sapone, le cose essenziali, tutto era per spese personali, ristoranti, arredamento, mobili, cucine. Tre liste riassumono le contestazioni di frode, bancarotta e autoriciclaggio. La prima lista è quella delle parti civili, il Ministero dell'Interno, la stessa Caribou e il Consorzio AID, 19 loro dipendenti, con il sindacato Wiltux e l'avvocato Giulio di Mastro Battista e sette comuni pontini dove erano sparse le 33 strutture di accoglienza dei progetti Sprar. La seconda lista è quella delle carenze riscontrate negli stessi centri, cibo scadente, sovraffollamento, alloggi faticenti, condizioni sanitarie precarie, schede telefoniche non consegnate, corsi di lingua italiana mai svolti, mancata deratizzazione, deblattizzazione, la totale confusione nei registri della contabilità e in quelli delle attività. Infine la lista delle spese personali circa 2 milioni nelle quali sarebbero stati utilizzati fondi pubblici, borse, gioielli, viaggi, arredamento di case private, ristoranti, soggiorni in hotel di lusso, spa, centri estetici, apertura di un supermercato e di un ristorante in Ruanda dove tuttora si trova irreperibile e stralciato, mutangana e le spese nella clinica privata per il parto di Murachetete. Per queste accuse lo scorso ottobre i familiari di Somma Oro sono finiti ai domiciliari, mentre già correva parallela l'altra indagine sull'evasione fiscale da 3 milioni di euro per la quale, come detto, queste persone sono già finiti a processo. Quindi da una parte abbiamo 3 milioni, 5 milioni, spese pazze, 5 milioni di euro. Guardate che non è facile spendere 5 milioni di euro tra intimissimi, la borsetta, gli occhiali, ci vuole un bel impegno giornaliero, dire oggi, oggi che faccio, che mi compro? Uno zaino, un paio di occhiali, un braccialetto, quindi esci e ti fai tutti i negozi a destra, poi torni e ti fai tutti i negozi a sinistra, e vabbè, insomma, ci volevano anche le mani per portare tutta sta roba a casa. Grazie a tutti e arrivederci a presto.